La polizia ha arrestato per estorsione Ignazio Ballistreri, 34 anni, Cesare Gennaro, 42 anni e Marco Lavardera, 20 anni. Da alcuni giorni i tre avrebbero preteso dei soldi da una coppia di giacalone. Martedì sera, oltre alle minacce, i malviventi nell'abitazione delle vittime hanno danneggiato gli arredi esterni della villetta e nella porta avevano inciso un messaggio intimidatorio. Gli estorsori a bordo della Opel Corsa sono tornati a Palermo. Qui le volanti della polizia, avvertite dalla sala operativa, hanno intercettato l'auto in via Roma. Dopo un inseguimento sono stati bloccati in piazza Sturzo. Nel cofano e sotto i sedili della vettura sono stati trovati una pistola tipo revolver calibro 38 con quattro cartucce, risultata rubata, alcuni passamontagna e numerose fascette da elettricista, una chiave adulterina, guanti lattice di cotone ed alcuni taglierini. Altre fascette, passamontagna, guante e taglierini sono stati rimenuti nell'abitazione di uno dei tre fermati, nonché due telefoni cellulari ed un documento di identità che erano stati sottratti alle vittime.